Si è celebrata questa mattina nel Tribunale di Teramo l'udienza preliminare per il processo sul presunto inquinamento dell'acqua del Gran Sasso. Il GUP Marco Procaccini ha disposto il rinvio degli atti al pool DPM per la citazione diretta a giudizio per 10 persone, tutti accusati di inquinamento ambientale. Caduta nel vuoto almeno al momento, l'annunciata costituzione di parte civile di Comune di Teramo, Comune di Isola del Gran Sasso e Provincia di Teramo, oltre a cittadinanza attiva ed altre associazioni ambientaliste, quello oggetto dell'udienza odierna e il primo filone delle indagini affidate, dal procuratore di Teramo Antonio Guerriero al pool di magistrati composto dai sostituti procuratori Greta Aloisi, Davide Rosati e Stefano Giovagnoni. Le risultanze delle indagini, secondo i magistrati, avrebbero evidenziato tutta una serie di presunte interferenze tra i laboratori, le gallerie autostradali e il sistema di condutture delle acque con criticità mai sanate. Questo, sostengono i magistrati, ha portato ad un pericolo permanente per la salubrità delle acque a causa di un inadeguato isolamento delle opere di captazione e coinvogliamento di quelle destinate ad uso potabile. Sul sistema del Gran Sasso, la procura di Teramo ha aperto anche un secondo filone di indagine, al momento senza indagati, che interesserebbe alcuni esperimenti svolti nei laboratori e il loro eventuale impatto ambientale.